La metà seducente, i personaggi femminili, nell'opera di Vittorio Giardino, a Palazzo Ducale. Silhouette sensuali e tocchi leggeri, per un'esposizione interamente dedicata alla donna. Una donna diversa però dai canoni visivi odierni, quella raffigurata da Vittorio Giardino nelle sue tavole e nelle sue illustrazioni, dove i colori si sposano con sguardi dolci e incantevoli, e la china gioca con ombre seduttive ma mai rivelatrici. Una mostra onirica, un mix di tavole originali, illustrazioni e opere inedite, per un percorso tot corto sulla figura femminile. Unino alla bellezza totale della donna, un dovuto omaggio a un elemento dell'arte di un grande autore italiano.